Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale Siamo qui oggi per il classico appuntamento della domenica riguardante la zona caffè di Serie B Sono alle ore 9, alle 10, 10 e mezza devo decidere uscirà questo video Andremo come sempre a parlare un po' di tutte le partite, di quello che è successo in questa 26esima giornata Mi raccomando però a prima di partire col video e con l'analisi Vi devo chiedere un pollicione su qua sotto, 30, 40, 50, mi piace per supportare i miei contenuti Un'iscrizione al canale totalmente gratuita ragazzi, mi raccomando iscrivetevi Questo è un canale che parla solo unicamente di Serie B E vi lascio qua sotto il link del mio shop dedicato unicamente solo alla Serie B con prodotti fatti da me Partiamo subito da Cosenza Sampdoria, partita a cui ho fatto anche un po' spartita Che vi rimando a rivederlo se potete sapere un po' come la penso anche su questa gara In breve cosa dico, che il Cosenza secondo me ha giocato un ottimo primo tempo Ha avuto anche un ottimo approccio alla partita Però brava la Samp a sfruttarne le occasioni che si è create in quei 25 minuti In cui lui il Cosenza comunque spingeva e ha creato molto soprattutto con Gennaro Tutino Prima da Erboe e poi dai Luca decidono la partita Nel secondo tempo ho visto un Cosenza che comunque non ha mollato di fronte a una cornice di pubblico importante Ha trovato anche gol del momentino 2-1 con Gianluca Frabotta Ma rimane comunque una buona prestazione, un Cosenza che rimane undicesimo Quota 32 punti, si interrompe una striscia positiva che andava avanti da diverse partite Però la Samp invece era una vittoria importante, la cercava da tanto E soprattutto è determinante per il proseguimento del campionato Perché la Samp adesso è a quota 31 punti La zona play-out momentaneamente dista a una distanza di 5 punti E' sicuramente un margine che aumenta rispetto a qualche settimana fa Ed è per questo una vittoria importantissima in casa Samp Anche perché mancava da più di tre partite Proseguiamo con Feral Pisalò, Ascoli ragazzi 0-1 Partita che la vince la squadra di Castori Grazie a un gol in mischia di Patrizio Mazzini Su un'uscita secondo me sbagliata di Pizzignacco Per il resto è una partita molto maschia Combattuta con tanti contrasti, tanti falli La Feralpi aveva anche per assurdo raggiunto il pareggio con Pietrelli A 95esimo annullato poi per Cekvar Per un fallo in area di rigore da parte della Feral Pisalò Feral Pisalò che perde uno sconto diretto Feral Pisalò che accumula la terza sconfitta consecutiva Rimane ancora a quota 21 punti Adesso però la distanza è aumentata dalla zona play-out Perché con la vittoria dell'Ascoli E l'Ascoli va a più 5 Quindi inizia a essere sicuramente una distanza importante Visto che siamo alla ventisesima giornata Visto che mancano ragazzi poco più di 12 Mancano 12 partite al termine del campionato Ed è per questo che mi aspetto che la Feralpi Nelle prossime settimane possa e debba dare una svolta Al suo momento negativo per l'Ascoli Ottima vittoria Non facendo una grande prestazione Ma comunque da squadra vera Da squadra di Fabrizio Castori Brescia-Reggiana 0-0 Poco da dire se no che nella Reggiana ha giocato meglio il secondo tempo Meritava secondo me il vantaggio per quanto creato Soprattutto nella seconda frazione di gioco Un Brescia che magari ci ha provato di più Soprattutto nel primo tempo Mi viene in mente la punizione di Vesaggio Uscito veramente di poco Per il resto è una partita che regala poche emozioni Per il Brescia il secondo pareggio consecutivo Quota 34 punti Non opposto A pari punti con il Modena Ragazzi ottavo E a soli due punti Un Cittadella che ieri ha raccolto la sesta sconfitta consecutiva Parla Reggiana E un pareggio dopo una sconfitta di settimana scorsa E il terzo pareggio nelle ultime quattro partite Manca un po' la vittoria Anche loro a quota 31 punti Come Sampdoria E su Tirol Proseguiamo con Cremonese-Palermo 2-2 Ne ho parlato anche ieri In un post partita Che vi rimando Se volete vederlo Per capire anche un po' bene Come la penso questa gara Ne parlo anche qui Perché è giusto parlare Perché era uno sconto diretto importante Io credo che il Palermo Si debba mangiare le mani Per quanto Per quanto è successo ieri pomeriggio Allo Zini di Cremona Perché È il merito di andare in vantaggio per 2-0 Che trovi grazie al rigore di Brunori È una bella azione Targata Gomez Di Achite Di Achite Ranocchia E soprattutto Tu vai in vantaggio 2-0 Hai un uomo in più In uno sconto diretto così importante Non puoi prendere Quei due gol Che prendi A inizio Secondo tempo Il primo ragazzi È un gol Dove c'è poca Attenzione difensiva Perché non puoi concedere Tutti quei passaggi Dopo una ribattuta Su un tiro Di un tuo avversario A una squadra così forte E tecnica Come la Cremonese Perché la Cremonese Gli è bastato Gli è bastato Che la palla passasse Da Pichel Pichel Ragazzi Fa questa sponda Per Castagnetti Perché Castagnetti Fa veramente un bel tiro Difficile Angolato E batte Pichel Ma poi La cosa assurda Secondo me Per il Palermo È il secondo gol Perché prende Perché da questo lancio In cui Massimo Coda Ci crede Ruba palla Al difendente Del Palermo E poi trova E poi trova un gol D'attaccante Vero Il tredicesimo In questo campionato Anche lui Adesso Il miglior marcatore Ad oggi E di questa serie B È sicuramente Per la Cremonese Un punto importantissimo Forse ispirato Per come si era messa La partita Ma mi fa capire La mentalità Della squadra di Stroop E quanto è forte La Cremonese E quanto la Cremonese Può essere Può essere dentro Questa corsa All'otta La Serie A Adesso terza Quota 47 punti Palermo quarto Quota 46 punti Ma per il Palermo C'è tanto da mangiarsi Le mani Per la partita Di ieri Pomeriggio Proseguiamo Con Cittadella Catanzaro Ragazzi 1-2 Ottima 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 Vittoria Del Catanzaro Che trovate Tre punti Comunque In un campo Ostico Grazie ragazzi Al suo miglior giocatore Ovvero Pietro Iemmello Che fa un primo gol Dopo 20 minuti Bellissimo Neanche col suo piede Un tiro a giro Che batte Castrati E indirezza la partita Bravo il Città Perché ha una reazione Di pancia Di orgoglio Visto le 5 sconfitte Consecutive Da cui veniva E grazie a Baldini Su calcio di rigore Che c'era per fallo di mano Da parte di un giocatore Del Catanzaro Trova il gol Del pareggio Al trentesimo Baldini Che segna dopo Oltre 500 giorni Un ragazzo molto sfortunato Che ha avuto Un'infortuna importante L'anno scorso Per il crociato Torna a giocare Torna a giocare E segna per l'appunto Può essere una risorsa In più Per il Città Da qui alla fine Visto anche il grande momento Di difficoltà Che viveva la squadra Di Gorini E poi però Dopo il pareggio Torna in campo Un ottimo Catanzaro Nel secondo tempo E la vince Sempre Solito grazie Per l'appunto Pietro Iemmello Ho visto un buon Catanzaro Che torna alla vittoria Dopo qualche partita Sesto Quota Quota 42 punti Dopo dopo una partita Perché aveva pareggiato La scorsa E sono in una striscia positiva Con tre pareggi Due vittorie Nell'ultimo e cinque E viva E vuole tenersi Questo sesto posto Che equivale Playoff Per la squadra Di Vivarini Per il Città Sesta sconfitta consecutiva Sempre E 36 punti Settimo posto Ad oggi Proseguiamo Con su tiro al Bari Ragazzi 1 a 0 La decide Il rigore Di Daniele Casiraghi Il nono rigore Che trasforma In 12 gol Che mi sembra Che abbia fatto In questo campionato Un rigore che c'era Per un'ingenuità Dalla difesa del Bari Una partita Veramente brutta 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 Dove veramente Entrambe le squadre Non hanno giocato Poco a calcio Pochissimo Così nella gol Un tiro in porta testa E il rigore Del Suttirol E il tiro Del Bari Che non mi ricordo Neanche troppo bene E in tutta la partita E in tutta la partita Veramente una gara Molto molto brutta Che solo un episodio Poteva sbloccarla Per l'appunto Vince il Suttirol Su calcio di rigore Per gli Achini Nella prima sconfitta Dopo due vittorie consecutive Bari sempre 10-4-33 punti Suttirol che trova Tre punti Vitali In ottica salvezza 12-4-31 punti Ad oggi Anche loro Un margine Di 5 punti Sulla zona Playout Proseguiamo Con Como Parma 1-1 ragazzi Partita bella Big match Interessante Che è andata in scena Ieri al Sinigaya Soprattutto nel primo tempo Perché nel primo tempo Secondo me il Parma Fa una partita straordinaria Creando un sacco Di occasioni da gol Sblocca dopo un minuto Con Benedicac Non può prendere Quel gol il Como Dopo un minuto Con quel tipo di ripartenza Non può assolutamente Prendere una squadra Che per me È forte E sta giocando Legittimamente Per la Serie A E poi ragazzi Diciamo che il Como Sfrutta bene Una pressione fatta bene Durante la prima frazione Un errore anche importante Di circati In fase di possesso In fase di postazione Dal basso È bravo verde Ad approfittarne E trovare il gol Dell'1-1 Su un'imbocata Ottimo Del giocatore del Como Che aveva recuperato palla Poco più Della metà campo E poi nel secondo tempo Cade ci ha detto pochissimo Entrambe le squadre Si sono accontentate Del pareggio E nessuno dei due Ha creato grandi occasioni Il Parma nel primo tempo Poteva fare anche più di un gol Perché le occasioni Per farlo c'erano Squadra che quando A campo In ripartenza È micidiale Con Denisman E Mijla Che corrono sulle fasce Parma sempre capolista Quota 55 punti Buon margine Sul Venezia Cremonese Palermo Como Quinto A quota 46 punti Deve stare attento Perché il Catanzaro Adesso è solo i 4 punti Di distanza Pisa-Venezia 1-2 La decide un gol Assurdo Di Marco Olivieri Al minuto numero 93 La vince Il Venezia Di Vanoli Che fa questa corsa Sotto il settore Bellissima Ma veramente ragazzi I gol di Olivieri Non lo fanno neanche in Serie Non lo fanno neanche in Champions League Un gol importante Su un cross Questa rovesciata Da lontano Palla che finisce Perfetta L'angolino Ed è regala Tre punti Importantissimi Al Venezia Che adesso è secondo Quota 48 punti Ed è solitario Vuole tenersi questo Secondo posto Per il resto Una partita Sicuramente equilibrata Nel primo tempo Dove il Venezia Crea Qualche occasioni La sblocca Nel secondo tempo Scusatemi La sblocca il Venezia Con Poi a un paolo Nel primo tempo Una partita Dove c'è stato Qualche occasioni In una parte Che dall'altra Mi viene in mente Il tiro di Valotti Alto Dove poteva sfruttarlo meglio Qualche occasioni Per il Venezia Soprattutto su cross E poi per il resto Un secondo tempo Che si accende Dopo il gol di Poi a un paolo Il pareggio di Bonfanti L'attaccante vero Questo bel movimento Con la palla A spostarsela E a spiazzare Poi ragazzi Il portiere del Venezia Joronen Per il resto Un Venezia Che la vince Grazie alla qualità Tecnica superiore E grazie a un giusto Tecnico Impressionante E bellissimo Di Marco Olivieri Pisa Che però rimane Ragazzi Quindicesimo Quota 30 punti E la seconda Sconfitta consecutiva E una seconda Sconfitta Che tra l'altro Dopo il novantesimo minuto C'è tanto rammarico In casa Pisa E per Aquilani Chiudiamo Con Ternana Lecco 0-0 Pochissimo da dire Partita che Non ci ha regalato emozioni Nessun gol E entrambe le squadre Hanno preferito Non perderla Magari Lecco Ci ha provato tanto di più Perché ha calciato più in porta E ha calciato più in generale Però magari a un certo punto Può essere anche subentrata La paura di non perdere Ma per il Lecco Era vitale Vincere questa partita Visto che era Uno scontro diretto Ternana sedicesimo Quota 26 punti Lecco penultimo Rimane invariato Il distacco di 5 punti Fra le due Con pagini Pollice nel suo video Iscrivetevi al canale Noi ci becchiamo A un prossimo contenuto Bella ragazzi